Dopo essere andato al pronto soccorso in preda a dolori addominali lancinanti ed una forte emorragia, lo avevano rimandato a casa ma da lì a poche ore la situazione era precipitata. I familiari dell'uomo nel maggio del 2018 avevano presentato un esposto denuncia alla magistratura chiedendo di accertare le responsabilità del decesso del proprio caro avvenuto al Vittorio Emanuele di Catania. L'uomo a seguito di forti dolori addominali e un'emorragia veniva soccorso con codice giallo per una rettoragia. Nonostante le diverse scariche anche durante la notte e il giorno seguente, inspiegabilmente veniva dimesso dal pronto soccorso dell'ospedale. Dopo essere rientrato a casa, l'uomo che continuava ad avere forti dolori addominali e problemi respiratori, a seguito di una folle corsa in ambulanza con codice rosso, arrivava in ospedale in arresto respiratorio e dopo alcune ore moriva sotto gli occhi dei medici. Per i consulenti della procura si tratta di un caso di mala sanità. Infatti nella consulenza medico-legale disposta dal PM si legge. Trattandosi di un paziente anziano con insufficienza rerale in trattamento dialitico, i sanitari avrebbero dovuto continuare il monitoraggio delle condizioni cliniche e le idonee terapie che il caso richiedeva. Sarebbe stato necessario ripetere immediatamente gli esami e chiedere una consulenza ematologica per valutare la somministrazione di vitamina K per via endovenosa, complesso protrombinico, un antidoto specifico, liquidi per via parentale ed in questo caso era necessario prendere in considerazione anche la consulenza chirurgica e gli accertamenti diagnostici per indagare la causa del sanguinamento.